Al Palazzetto dello Sport è iniziato un altro follow-up su 450 cittadini di Ariano ex positivi al Covid. Il maxi monitoraggio volontario andrà avanti anche domani, sempre dalle 7 alle 20. Più di 100 le persone a cui è stato effettuato il prelievo nella sola mattinata di oggi. Si tratta del secondo follow-up organizzato dall'Istituto Zooprofilattico di Portici su iniziativa della Regione Campania dopo quello dello scorso gennaio. Allora venne richiamata la Corte di soggetti risultati positivi agli anticorpi allo screening di massa del 20 maggio 2020. Parliamo di circa 730 persone. Tra oggi e domani si recheranno dunque al Palazzetto di Cardito per effettuare il prelievo in tutto 450 persone. Su base volontaria è anche possibile sottoporsi a tampone. Nel 99% dei soggetti che hanno partecipato al primo follow-up venne riscontrata la presenza di anticorpi. Solo 9 i soggetti che non li avevano sviluppati. Rifaranno dunque il prelievo per capire la durata della memoria immunitaria e per dare un importante contributo alla ricerca scientifica. Nella maggior parte dei casi si tratta di cittadini che nel 2020 hanno avuto una positività asintomatica. pochi i casi di sintomaticità si è partiti da uno screening di massa, quello del 2020, occasione in cui molti hanno scoperto di essere entrati in contatto col virus per continuare con due maxi monitoraggi a distanza di tre mesi l'uno dall'altro. Lo studio è svolto dall'Istituto Zooprofilattico di Portici in collaborazione con l'ospedale Monaldi, con l'asla di Avellino e l'amministrazione comunale del Tricolle. Vengono svolte due tipologie di indagine sierologica, una dal Monaldi e una dall'Istituto Zooprofilattico. Sullo studio c'è già una pubblicazione scientifica. I risultati del monitoraggio sui 450 cittadini di Ariano si avranno nel fine settimana. Il referto arriva a chi ha effettuato il prelievo via messaggio. Su una corte di soggetti molto ristretta, l'Istituto Sperimentale del Mezzogiorno ha fatto anche approfondimenti genetici. È stato sequenziato l'esoma per verificare se ci sono persone geneticamente più protette al momento dell'infezione da coronavirus. Piccole mutazioni genetiche permettono di sviluppare una barriera contro l'infezione. I dati raccolti oggi e domani saranno poi confrontati con quelli di gennaio e di maggio 2020.